Sviluppo economico ed occupazione si tratta di un binomio, crescendo l'uno automaticamente cresce l'altro, c'è come dire un rapporto direttamente proporzionale. Ne parliamo con il dottor Francesco Turco, candidato al Consiglio regionale pugliese con la Lega. E allora quali vettori utilizzare per favorire un adeguato sviluppo economico del territorio? Ma è sicuramente legato lo sviluppo economico all'occupazione e oggi il problema dell'occupazione è sentita in maniera forte, non solo nei giovani, perché questo problema che c'è stato con il Covid ha messo a terra altre fasce di popolazione, di persone che magari lavoravano, anche i cinquantenni, i un lavoro. Se non c'è sviluppo non c'è occupazione. Lo sviluppo la Regione può crearlo assolutamente, non direttamente, mi spiego, perché la Regione non può assumere o prendere, ma dà il vettore di finanziamenti ad altri enti, finanziando comuni, anche altri enti privati, distribuendo i soldi anche dell'Europa, per cui deve fare di tutto la Regione di portare sul territorio quei soldi necessari affinché le aziende possano svilupparsi. Ma non solo questo, bisogna assolutamente sburocratizzare quelle che sono le problematiche per raggiungere dei finanziamenti. Oggi è una giungla, si fanno tante di quelle carte, si fa tanti di quei progetti che rimangono purtroppo sulla carta. Dobbiamo cercare di eliminare quanto più è possibile, e anche questo è un problema che la Lega se lo pone, le partite IVA sono strozzate. Per cui la Regione deve fare di tutto, di finanziare gli enti sottoregionali e dare quanto più è possibile ai privati, alle aziende, alle piccole aziende, perché poi la Puglia e la nostra Regione, ci sono un'azienda grandissima sicuramente che è l'Exilva, ma ci sono tante piccolissime aziende che vanno sostenute per poi poter assumere.